Benvenuti su Gossip News Ita. Oggi vi portiamo uno scoop che sta scuotendo il mondo del gossip italiano. A distanza di quasi 20 anni, Ilari Blasi ha chiesto scusa a Fabrizio Corona. Sì, avete sentito bene. Secondo quanto rivelato dallo stesso Corona nel podcast Gurulandia, la conduttrice romana ha finalmente compiuto questo gesto di riconciliazione. Ma andiamo per gradi, tutto è iniziato con una telefonata diretta da Ilari a Fabrizio, dopo diversi tentativi da parte della sua manager. Ma cosa ha spinto Ilari a fare questo passo così importante? Pare che la separazione ufficiale tra lei e Francesco Totti abbia cambiato le carte in tavola. Ricordate quando Corona rivelò i presunti tradimenti di Totti con Flavia Vento? In passato, Blasi difese a spada tratta il suo ex marito, ma ora le cose sono cambiate. Nella telefonata, Ilari si è scusata per non aver creduto a Corona quando parlò per primo di quei presunti tradimenti. Una mossa coraggiosa, considerando il passato burrascoso tra i due. Ma la storia non finisce qui. Pare che Corona abbia accettato le scuse di Blasi e si sia offerto addirittura di testimoniare in un processo imminente tra la conduttrice e Totti. C'è molto in gioco, soprattutto ora che Flavia Vento ha ammesso di aver avuto una frequentazione con l'ex capitano della Roma. Quindi, cari spettatori, se vi state godendo questo scoop come noi, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, lasciare un bel like e commentare cosa ne pensate di questa vicenda. Vi ringraziamo già in anticipo per il vostro supporto e ora, non vi resta che seguire da vicino gli sviluppi di questa turbolenta storia tra Ilari Blasi e Francesco Totti su Gossip e per niozita.